musica 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 eh dai Sam basta che non parli alla prossima partita io uso il mio nuovo eroe oh sei pronto Samu aspetta vai Sam mi riesci ad avanzare lo Zangler che vedo che fa proprio pena eh no devo andare su ci ha usato la ulti così proprio proprio schifo si che neanche serviva praticamente ah no che stupido che sono è perchè pensavo ci fosse la torre e tanto tempo c'è più risponato invece l'abbiamo buttata giù prima attacca 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 no no vai 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 anche contro Skarner dai vieni sotto torre ci mi è morto no ho usato la cura all'ultimo ah eccola lì vai ammazza la roccarello secondo me usa la ulti eccola ma porca la miseria troia vai attacca eh non ho la non ho le mosse porca trombola però si potrebbe ammazzare Ani usa le tue abilità su Ani non ho più non ho mana non hai mana ammazzala porca trombola grande aiuto arriva 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 non ce la fanno grande è arrivato Fisher grande Fisher ed ammazza due grandissimo Fisher ed ammazza due grandissimo Fisher arriva arriva no 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 ok ma dai ma guarda che incompetenti che siete vi lasciate sfuggire le kill come niente ahia porca trombola cosa cazzo che sono trappi no non ci credo si ma cazzo uno al tre fa dieci non dire la roccia guardate le torri guardate le kill ma cosa c'entra le tre di differenza guardate la loro Ani eh guarda il nostro xin come si chiama quando muore il teddy bear qua Ash è una scarsona di quelli l'unica pericolosa è Ani e Nasus mi pare Nasus va stesso in tre per ucciderlo eh vedete niente c'è basta quello porca uh 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 guarda c'è Scarner dov'è? eccolo? eccolo qua eccolo qua l'Androlese ma occhio che cazzo fa la ultimate cos'è? boh muore è quella la sua ultima vedi guarda abbiamo fatto il cuore tutto occhio che arriva Gins dov'è? se ne siamo in quattro no ma state nascosti così pensano che siamo di meno Ani dietro Ani dietro arrivo sono qua porca porca trombola mi ha tolto tutta la vita ah no è qua è qua da me è tua oh Rocco vai vai tanto ci siamo noi dietro vai tra un po' eh ha girato è girato di qua di qua aspettate di qua eccola grande grande dai mia grande Samu nooo porca è mia sì si Samu è un'altra bravo Samu grande grande dai 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 adesso che nooo sasce 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 eh sì o eh ma siete ritardati da lì arrivate dai 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 la rallento bene mia basta ha finito di vivere eh no vai dai Samu ma va a qualcuno andiamo andiamo giù andiamo giù Samu vado giù vado giù è che abbiamo un eserci oh Anni mid vai ma se abbiamo vizio vai fuori Gink c'è anche oh Anni Anni dove è Anni la troi? qua rallento vai si ma ci ha stunnati in 18 porca trombola aspetta che gli esplodi in testa occhio che c'è anche vai vai scappa 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 si ma dove ma ci ha uccisi tutti ma stiamo scherzando ma si ma perché ma cosa si non la vinciamo ragazzi non riusciamo a vincerla hai vinto non mi interessa ma si che riusciamo dai come 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 ditemi come ma basta che siamo uniti perché ci ammazzano una alla volta sai com'è Anni ha fatto bene una tripla se non l'hai visto e siamo in vantaggio noi di una kill eh figurati sia agli occhi nooo come ho fatto ah non lo so io su skarner vai su skarner andate su nasus andate su skarner adesso su nasus su nasus è mio vedi zembe che li facciamo fuori dai ma quanto ti costa pushare mid da n'azione porca miseria eh adesso tanto basta io se va non so se hai notato quanti danno faccio nooo cioè in 3 secondi mi ha fatto acqua adesso abbiamo il super minion minciamo dai 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 vabbè 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 è morta jinx anche anni anche anni aiuto c'è anni ma se ci andiamo a far fuori di nuovo il drago dai andiamo oh c'è skarner è scarsissimo eh fallo avvicinare un po' ti fallo eh vabbè e.. e va beh! c'era muscular via 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 più veloce del vento l pencil i 4 stacca packing Ma come c'è? Eh è al sedice Se io non ho capito che mi sei mobilizzato Mobilizzato C'è Anni Eccolo qua Anni la troia Eh ma che cavolo mi scordisce al primo colpo Ah sono in due Aiuto E' impossibile Porca miseria Guardate 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 Eh oh io ci ho provato a fargli un po' di danni Ma erano in tre Unitevi 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 Occhio Zem Eh no eh si ciao Occhio che arriva Anni muoviti Dopo che scappa Ok scappa Scappa Oh grandissimi Grazie Vai 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 Giubito All vs Nasus Arriva Arriva Red Teamfight Arrivo Ma ce l'hai la ultimate? Sì Arriva? 3 2 1 Vai 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 Arrivo Arrivo anch'io Ok è vostro Nasus Nasus è vostro E anche Scarner magari Ok E anche Ash Picchiate tutto Picchiate 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 Vado giù vado giù Non mi fermo Vai giù vai giù Aiuto No È morta No È morta No Sì è morta È morta обязательно Yippie Che è morta Ora io uso Huxer Zombie Sniper Oh Zemba chi è che perdeva? No no scusa non ho sentito chi è che perdeva qua? Ah non lo so io Ma ragazzi salutate perché ho registrato tutto Oh mio DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ho registrato tutto ragazzi Anni Non me ne fotte niente Andrea non me ne fotte un cazzo Anni ha fatto tipo 25 kill Sì ma ho registrato tutto Non ce ne frega un cazzo non ce ne frega un cazzo non ce ne frega grande ciao ragazzi